Finalmente stamani è un fungo come si deve, eccolo qua, è naturalmente un porcino ampiamente edule, trattasi di un moro e il peso è di 550 grammi. Porto sempre la macchina fotografica con me, stamattina l'avevo lasciata, ha portato bene perché a me piace riprenderli mentre vengono svelti dal terreno, eccolo qua, è andata bene perché oggi vengono i miei amici da Firenze e sinceramente sono girato abbastanza proprio finalizzando la mia ricerca a fargli mangiare un fungo fritto, eccolo qua, 550 grammi, pregevolo, più altri 4 o 5, quindi praticamente 8 et di funghi, nonostante che sia secca il terreno, la temperatura è molto alta, quindi se non viene un po' di pioggia si interrompono.